Tragedia per fortuna soltanto sfiorata ma tantissima paura per il conducente di una betoniera che è letteralmente sprofondata in via Saia Oreto, la strada che conduce al museo etnostorico Cassata. L'incidente si è verificato intorno alle nove di questa mattina, praticamente a ridosso della strada statale 113. Il mezzo pesante a bordo del quale l'uomo viaggiava, giunto in prossimità dell'incrocio con la statale, si è adagiato sul fianco sinistro a causa del cedimento dell'asfalto sottostante, riportando diversi danni. Fortunatamente il conducente non ha provato ad aprire lo sportello su quel lato, riuscendo ad uscire indenne dalla cabina del mezzo, seppur in evidente e comprensibilissimo stato di shock per quanto accaduto poco prima. Sotto alla strada in cui è avvenuto l'incidente scorre la Saia Oreto, alla quale più avanti si congiunge la Saia Pantano, prima che entrambe confluiscano nella Saia Bizzarro. Il recupero del mezzo è stato alquanto complesso ed ha richiesto l'intervento sul posto di Gru, il cui lavoro non è stato facile, specialmente nel tentativo di non causare altri irreparabili danni alla betoniera. Lo smaltimento del traffico veicolare è stato gestito invece dal Corpo di Polizia Municipale di Barcellona Pozzo di Gotto.